E' partita, partita questa prima serie, intanto presentiamo la seconda degli assoluti, Loda due, Salogni tre, Appiani quattro, Cilloni cinque, Bellini sei e Garuti sette. Record della manifestazione nel 2015 di Lorenzo Glessi, cinquantatré e cinquantanove. Riccardo Pini in vantaggio con venticinque diciotto su Riccardo Tomasi venticinque ottantotto, Riccardo Tomasi già medagliato di bronzo ai criteri in questa gara l'anno scorso dei cento arfalla, Riccardo Pini anche lui ottimo farfallista, mantiene il vantaggio, vediamo all'uscita dell'ultima subacquea, Pini cuffia blu del Gantima la cinque, Tomasi cuffia arancio della Gessi alla quattro, Riccardo Pini cinquantaquattro e sessantuno per la vittoria della categoria junior, su Tomasi cinquantacinque e trentanove, Marco Deano è terzo, cinquantasei, ventuno.